Ed ecco Pachino, appena sulle colline, erede recente di tanta storia. La sua vita risale a data certa. Il 2 di agosto del 1758, Carlo III di Borbone Farnese concesse al barone Gaetano Starrabba, principe di Giardinelli di Piazza Armerina, il permesso di costruire la città a patto che i fuochi e cioè i focolari fossero almeno 50 e che il villaggio fosse a più di due miglia dal mare. Così arrivarono a Pachino i Maltesi con le loro case e i loro strani nomi e i nobili, pochi e poveri, costruirono comunque i loro palazzi fondando le modeste fortune sulla vigna e sul vino. Produzione così importante, singolari i vigneti a cespuglio, bassi sul terreno ricco e ferace, d'aver indotto l'entusiasta e delizioso storico di Pachino, Monsignor Simone Sultano, ad avallare l'ipotesi che il nome stesso di Pachino potesse in qualche modo derivare dal greco Pachis e cioè molto e da Oinos e cioè vino, derivazione fantasiosa come corregge Emanuele Umberto Muscova che sostiene essere recente la grande coltivazione della vite anche se certo Pachino fu anche deposito di vini e afferma che il nome dovrebbe derivare dal greco Pachsunos e cioè scoglio o dal fenicio Pacum e cioè guardie. Certo la vite costituisce oggi assieme ad altre culture tradizionali l'ossatura portante dell'economia di Pachino lentamente uscita, vediamo qui una moderna cultura di carote, dalla crudeltà della struttura feudale. Condizione sociale oggi inimmaginabile. Per rendersene conto bisogna rifarsi ancora alle ingenue e commosse pagine di Monsignor Sultano che testimoniano del fatto, quasi incredibile, che solo un secolo è trascorso da quando nel 1879 Pachino fu decimata dalla più crudele epidemia che la storia umana possa ricordare, la fame. La fame, dice il vecchio sacerdote, la terribile fame fece strage dei cittadini e ancora noi sappiamo che in quei tristissimi tempi avvennero tra noi scene miserande, per la fame furono trovate esauste e sfinite delle persone nella campagna brulla e nelle aperte vie e nelle stanze misere furono trovate morte delle madri abbracciate coi figlioletti, ancoressi morti nel medesimo letto. La fame e il colera nel nostro lazzaretto, accampato nei pressi di Marzamemi, fu così straordinario il numero dei colerosi che i monatti, orrendo a dirsi, li seppellivano vivi e tra questi mamme con le loro creaturine smunte e scarnite dal fiero morbo mortale. E' una storia che bisogna sapere, mentre scorrono le immagini così pacificate di una vita agricola finalmente progredita e sicura, vale la pena di chiedersi il perché del susseguirsi di così strazianti vicende. Certo il colera o la carestia, la filossera o l'emigrazione furono fatti oggettivi, ma a potenziarli venne l'esaurirsi del sistema di sfruttamento feudale dell'agricoltura cui fece seguito una totale incertezza negli investimenti, nella gestione dei terreni, nell'accumulo delle riserve. E' la storia sociale di ogni angolo della Sicilia e non della Sicilia soltanto. La prova di quel patto silenzioso e segreto tra esangui nobiltà meridionali e rampanti industrie del nord, che lasciò alla prima spazi per una decadenza senza sussulti e alla seconda il diritto a far crescere una sola parte d'Italia. Situazione generale che zone come questa, già tagliate fuori dai grandi interessi dello sviluppo, vissero con strazio più doloroso. Il paese era preda degli usurai, che altrettante sanguisuche succhiavano il sangue dei bisognosi, i quali non avevano il becco di un quattrino per le colture dei campi, bussavano alle loro porte per il prestito. Il prestito era sicuro e facile, ma col frutto del 20, del 50, del 100 e magari, orribile a dirsi del 150 e 200%. A questa situazione rispose la volontà concorde dei poveri che trovarono nella chiesa, erano ormai maturi i tempi della rerum novarum e nel movimento dei laici impegnati nell'azione sociale dell'opera dei congressi, le strutture cui affidare un'azione di crescita autonoma. Nei tempi tristi di miseria sorsero in Pachino tre cooperative che furono la risorsa e la vita del paese, la cooperativa, la previdenza e la Santa Lucia. Grazie a tutti! Cambiati i nomi mutate le condizioni sociali, cresciuta l'autonomia e la cultura, il movimento cooperativo è ancora una delle componenti più solide dell'economia di Pachino. Questa che stiamo vedendo è una cooperativa giovane di appena 10 anni, pochi soci all'inizio, centinaia oggi. Una delle strutture che garantisce alla produzione agricola, che è qui tra le più ricche, quella continuità e quella serietà produttiva che sono le uniche forze capaci di garantire commerciabilità e successo sui grandi mercati europei, che costituiscono oggi l'unico sbocco possibile per un'agricoltura che vuole trasformarsi in industria.